Noi abbiamo già protocollato all'amministrazione comunale un documento di indirizzo politico che è quello di come vorremmo che questa città si evolvesse, funzionasse, progredisse, facesse degli interventi strutturali. Quindi noi spaziamo dal discorso delle aree demaniali che per noi è una parte ma molto piccola di quello che dovrebbe essere lo sviluppo di questa città a quello che deve essere secondo noi un'ulteriore concessione da parte della Marina Militare e quindi del demanio di ulteriori aree. A Taranto non ci devono essere nuovi insediamenti e se l'industria riuscisse ad effettuare gli interventi richiesti potrebbe ancora essere una risorsa altrimenti servire a puntare su altro e senza decisioni calate dall'altro ma per fare questo mancano gli interlocutori soprattutto l'amministrazione comunale. Serve uno sviluppo ecosostenibile della città, le aree demaniali sono entrate in possesso del comune oppure no si chiede Gian Grande perché altrimenti è difficile fare gli investimenti e creare gli interventi necessari come le aree parcheggio e il piano della mobilità urbana. C'è una componente che dobbiamo sciogliere siccome qui lo si dice tra le righe, sotto banco, oggi c'è il sindaco deve decidere. Gianni Liviano è un interlocutore suo o non lo è? È uno il suo delegato o non lo è? È il sindaco o non lo è? Quindi la prima riserva che dobbiamo sciogliere è questa perché da quello che sento ci sono delle situazioni tra il consigliere e il sindaco. Premesso che l'iniziativa secondo me va portata avanti a tutti i costi e quindi un'amministrazione che chiaramente mette in campo 10.000 euro, stiamo parlando di niente, io mi tasserei anche per far sì che questa città diventasse città della cultura del 2019, però bisogna scegliere e l'amministrazione deve scegliere se questa iniziativa che è dell'amministrazione in primo luogo, perché non ci possono essere gli altri sono componenti che decidono di partecipare a una grande iniziativa, a un grande evento. L'amministrazione è il punto focale, quindi l'amministrazione deve decidere chi è il suo referente, perché se non lo è deve decidere, se lo è deve decidere e diversamente dopo possiamo fare tutto quello che vogliamo. Noi ci crediamo, andiamo avanti. Pietro Dione, presidente dell'ordine degli architetti di Taranto, ha messo in evidenza la necessità di riqualificare il borgo di Taranto secondo le linee guida che sono state suggerite insieme a Confcommercio, fuori dalla logica dei progetti e di ciò che comporta. Abbiamo avuto questa opportunità di avere delle aree che potremmo utilizzare e diciamo potrebbero essere punto di riferimento per una riqualificazione, una rigenerazione urbana del centro. Di fatto le aree dei maniari, specialmente dell'area del baraccamento dei cattolici, sono un elemento importante anche perché è di cerniera con il centro del borgo antico, in sostanza, il borgo ottocentesco. Quindi hanno rivesto un'importanza strategica.